Grande successo l'iniziativa di caserme aperte per il 4 novembre in occasione della festa delle forze armate. Le porte della scuola della guardia di finanza Coppito, dei carabinieri del comando provinciale della caserma Pasquale, sede del nonno reggimento, si sono aperte per ospitare scuole e cittadini comuni, nel segno dei valori della patria e dell'amicizia, a voler riconsolidare un legame già forte tra la città e le sue forze armate. Alla caserma Pasquale più di 350 studenti hanno partecipato alla alza bandiera, alla presenza di numerose autorità civili e militari. L'area della Pasquale è stata divisa idealmente in quattro aree tematiche che hanno condotto il visitatore in un'esperienza interattiva, come voluto dal comandante e il colonnello Paolo Sandri, a partire dalla grande ricchezza del museo storico presente in caserma, allestito dall'allora 33esimo reggimento artiglieri a Acqui. In azione, per dimostrazioni pratiche, la squadra di soccorso alpino militare, molti si sono cimentati nell'arrampicata grazie alla nuova torre. I bambini sono saliti anche sul Gatto delle Nevi, usato in varie recenti emergenze, e in mostra hanno potuto osservare tutti i mezzi e materiali militari delle truppe alpine. C'erano diverse scolaresche, c'è stato infatti anche uno spettacolo teatrale molto interessante.